Bentornati a tutti. Oggi è sabato, 20 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Pensiero fisso viaggio e svago. Sabato è nella vostra mente, già ostinata per definizione, solo un pensiero fisso, viaggio e svago. Non che siate lazzaroni, tutt'altro, sul lavoro siete macchine da guerra, ma una volta espletate tutte le vostre incombenze e messa a punto con Oraniano Tempismo anche il programma per l'inizio della prossima settimana, vi sentite autorizzati dalla vostra coscienza a farvi i fatti vostri. E così con slancio ve ne andate un po' prima dell'orario convenuto, lanciate un giro di messaggi agli amici o vi intrattenete in un dolcissimo botta e risposta con la vostra altrettanto dolce metà. L'ottima predisposizione d'animo dipende in parte dal vostro buon carattere e in parte dalle stelle del momento, tutte in posizione armonica rispetto al vostro segno, la luna in vergine in trigono, Saturno e Marte in se stile e poi con Giove ancora nel segno serenità e ottimismo non vengono mai a mancare nell'arco della giornata. In più dal pomeriggio sarete in zona compleanno, il sole raggiungerà il vostro segno mettendo in luce col suo potentissimo raggio le vostre qualità e quelli dei vostri inquilini astrali. Attesa di buone notizie, attesa per eventi in amore. Speranza e desiderio di incontrarsi con la persona amata. Speranza in ricongiungimenti o in ritorni. Un momento di inerzia potrebbe attraversare la coppia. I single avranno molti, moltissime speranza ma non tutte saranno soddisfatte. Amori passati possono venire alla luce e tornare con tutta la loro forza imperante. Potreste incontrare un vostro ex che non ha mai smesso di essere innamorato di voi. Oggi potreste fare tardi a un appuntamento, come al solito cercherete di giustificarvi nel migliore modo possibile, ma la colpa sarà soltanto vostra. Non dovete necessariamente piegarvi sempre alla volontà del vostro partner, oggi ad esempio potreste aver bisogno dei vostri spazi e riconsiderare la vostra posizione in merito a numerose situazioni. Prendete la palla al balzo e trascorrete dei momenti in solutitudine che vi aiuteranno a ragionare. Qualche spiacevole conseguenza sarà solo il frutto di persone che lavorano da tempo ai vostri fianchi, mettetevi a lavorare seriamente per decidere il giro delle vostre amicizie fidate. Ottime sensazioni e intuizione, le decisioni che considerete oggi avranno un seguito in futuro. Cercate di riposare e di meditare il consiglio degli amici. Non abbiate timore nel fare chiarezza con alcune persone che vi hanno creato qualche problema. Sarà molto apprezzata la vostra sincerità e la vostra fermezza nell'esporre le problematiche. Se vivete una storia extra non lasciatevi prendere la mano con nervosismi e gelosie inutili, tutto sommato sapevate in anticipo i rischi che correvate e non è il caso di correrli proprio adesso. Fate una selezione delle migliori offerte disponibili se intendete organizzare un viaggio o una vacanza, non sempre risparmiare diventa una convenienza, soprattutto se organizzate all'estero. Cercate soprattutto, in questo periodo, di trovare un vostro equilibrio naturale. Tenete presente che amarvi non è facile quindi fate le opportune deduzioni. Gran giorno per voi che da metà pomeriggio, insieme ai vostri consueti ospiti di grande levatura come Giove e Urano, intratterrete per un mese intero anche il Sole, la stella del compleanno che lascia Mercurio e Venere da soli in ariete apposta per farvi gli auguri. A completare l'idilliaco quadretto, perfetto per una sabato di primavera, la luna razionale e concreta in Vergine. Peccato che Marte e Saturno le remino contro con una feroce opposizione lasciando fortunatamente in pace voi, anche se la schiera degli amici per un verso o per l'altro oggi risulta notevolmente ridotta. Amore ed Eros. L'umore lasciatelo perdere, non siete in giornata neppure per parlare. Migliore, anche seppure questo un filo conflittuale, il rapporto con i figli, specie se adolescenti sempre in giro con ragazzi che non vi convincono. Inutile affrontare il discorso, vi risponderanno consigliandovi di guardare piuttosto le vostre di amicizie, effettivamente al momento poco rispondenti ai vostri interessi e ai vostri bisogni. Il partner reclamerà il fatto che non gli state dando la giusta riconoscenza per ciò che ricevete. È vero che lui sta facendo molto per voi, ma sembrate non accorgervene. Offrite egli la giusta ricompensa. Lavoro e denaro. Zelanti come sempre e come sempre determinate a portare avanti i vostri impegni fino all'ultimo minuto. La piena onestà rientra insieme alla costanza, al pragmatismo e a una determinazione fuori dal comune tra le vostre prerogative. Svaghi e piacerisi ma soltanto dopo aver compiuto i vostri doveri, ovvero risolvere guai, tamponare imprevisti e far filare tutto liscio come l'olio. Per tutti i toro festa grande, almeno un brindisi con tutti gli amici del segno va fatto o almeno organizzato. Se qualche spocchioso per un verso o per l'altro si rifiuta brinderete da soli con le stelle che vi vogliono sempre bene. Impegnatevi a ponderare bene tutte le scelte che dovrete affrontare in questi giorni, magari avvalendovi anche dei consigli di un bravo esperto. La consulenza mai come in questo caso è consigliata. Benessere. Sani, belli e sereni, un po' stanchissi ma il sabato ci sta. Vi basterà rilassarvi un po', mettere un disco del vostro gruppo preferito e gustare qualche prelibatezza che a voi golosi fa sempre piacere e... buon compleanno e buona notte. Oggi sarete pimpanti e non vi mancheranno audacia d'azione e di pensiero, coraggio e forza, tutto ciò si traduce in una grande autorevolezza. Ricordatevi che non sempre la forma crea la sostanza. Per lei, alle sedicenti amiche linguacciute che non avendo nulla da raccontare di sé e si divertono a sparlare degli altri, tappate la bocca con una battuta secca ma feroce. Brave, buone e disponibili sì, ma guai se vi toccano i vostri ragazzi, dimostrate quel che sa fare un toro inferocito, carica. Per lui, non è semplice amicizia, ma nemmeno amore, ecco perché con lei se non possono essere baci sono battute, anche piuttosto cattivelle, una continua provocazione, fedele al proverbio chi disprezza compra. Colore delle emozioni, rosa conchiglia. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 6, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.